Grazie. Grazie a tutti. Grazie professore Sauperi e buongiorno, bentrovate e bentrovati. Allora, mi occuperò appunto questo pomeriggio di fare con voi una chiacchierata appunto su narrare il genere e la letteratura queer. Gli interessi relativi alla letteratura queer riguardano effettivamente il campo di studi di cui mi occupo. Sono professore associato di letteratura francese nel Dipartimento di Scienze Umanistiche del nostro Ateneo, ma faccio anche parte del Consiglio Direttivo del Centro Interuniversitario di Ricerche Queer dell'Università di Pisa, cui il nostro Ateneo è consorziato. E sono anche partecipante della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi. Questo per dire che dal punto di vista metodologico l'inquadramento che tenterò di dare alla nostra conversazione riposa sia sugli studi di genere che sulla psicoanalisi lacaniana. Allora, cominciamo con col fornicci, direi, di una coinè, di una lingua comune con la quale condividere poi le riflessioni che via via affronteremo. Si vede spesso in televisione o comunque insomma nelle pubblicazioni questa sigla LGBTQIA+, che insomma potenzialmente sembra potersi allungare ad infinito. Vediamo a che cosa corrispondono ciascuna di queste lettere per poi appunto vedere in che modo esse possano essere oggetto di varia riflessione. Anzitutto l'L, L di lesbismo, quindi stiamo parlando dell'attrazione sentimentale e sessuale tra donne, l'omosessualità femminile, ed è quindi fin qui siamo come dire su argomenti penso piuttosto noti a tutti. Forse meno noto il fatto che questo tipo di categorizzazione presenti in realtà una serie di sottocategorie, come ad esempio Dyke e Batch, che hanno un valore dispregiativo, quasi tutti questi lessemi che sono poi per lo più importati da lingua inglese, hanno generalmente un valore dispregiativo, indicano in questo caso generalmente l'individuo di sesso femminile, ma dai tratti o dai comportamenti maschili. Per converso FAM indicherà appunto un individuo di sesso femminile propriamente aderente, adesso vedremo appunto cosa vuol dire questo propriamente aderente, a dei criteri sociali e sessuali consoni al genere cui dovrebbe appartenere, cui si ritiene, perlomeno socialmente dovrebbe appartenere. Stesso discorso può farsi per i gay, parliamo dell'omosessualità maschile chiaramente, anche in questo caso abbiamo una ricca terminologia inglese, quasi totalmente assimilata dalla comunità gay anche italofona, che fa spesso uso di riappropriazione. Cosa intendo per riappropriazione? Per riappropriazione si intende il fatto che questi termini, che spesso avevano un valore dispregiativo e che comunque si tendeva a considerare esclusivamente nell'ambito gergale o comunque destinato all'offesa, sono progressivamente stati politicizzati. Diventano quindi termini che, vedremo, riescono a definire delle categorie sociali, categorie sociali che acquistano una forza contrattuale, anche di natura politica. Allora, alcuni di questi termini, esempio faggot o fag, che corrisponde propriamente al nostro italiano frocio, culattone, eccetera, ma anche termini che invece scendono in maniera più precisa all'interno di alcune tassonomie di genere, come ad esempio bear, orsi, cioè quindi uomini villosi dalla corporatura robusta, oppure twink, cioè dei giovani, dei uomini gay che comunque continuano ad avere delle caratteristiche fisiche adolescenziali, che generalmente sono glabri dal corpo longilineo, o ancora per converso chubby, per indicare appunto dei uomini gay sovrappeso o obesi. Queste due categorie che sono ovviamente di base sono affiancate da una tassonomia che adesso vedremo via via si compri, che si ramifica. Il termine di bisessualità, ad esempio, è un orientamento che, come dice la parola stessa, delinea, diciamo, comporta l'attrazione nei confronti di più sessi o generi, uomini, donne o persone non binarie. Bisessualità però non va confusa con bicuriosità. Bicuriosità riguarda dei comportamenti di natura essenzialmente occasionale, che non possono essere ascritti nella stessa sfera della bisessualità, che invece può essere rivendicata come tratto identitario. In questo senso, la bisessualità differisce anche dalla pansessualità. Potrebbe, diciamo, essere qualcosa che provoca una sorta di confusione, ma di fatto c'è una discriminante fondamentale tra bisessualità e pansessualità. La bisessualità comporta la costruzione di un fantasma erotico a partire dalla differenza sessuale, quindi un fantasma erotico che può essere orientato all'uomo e alla donna, ma dalla consapevolezza che gli individui che vengono desiderati siano una volta uomo, una volta donna. Mentre la pansessualità prescinde dalla costruzione del fantasma erotico. Quindi è come se in un qualche modo il genere della persona desiderata venisse opacizzato. Conseguentemente non ci si innamora, per così dire, del sesso della persona, neanche del suo genere, ma solo ed esclusivamente della persona, prescindendo dai caratteri sessuali e di genere. Ok, allora, perdonate l'interruzione, quindi abbiamo detto bisessualità, bicuriosità e pansessualità. Passiamo alla categoria del transgender. Anche il transgender è una categoria che potremmo definire come un termine ombrello, perché all'interno del transgender, diversamente da ciò che si crede, ricadono in realtà nozioni diverse tra di loro. La prima è quella di transessualità o transessualismo che possono essere trattate come delle categorie all'interno delle quali non esiste una corrispondenza tra sesso biologico e identità di genere. Questa assenza di corrispondenza conduce spesso ad una patologizzazione della condizione dell'individuo, tanto che appunto all'interno dei manuali di classificazione psichiatrica si parla di disforia di genere, col che ovviamente non intendo affatto dire che ci sia una patologizzazione che corrisponda all'identità di queste persone, quanto piuttosto il fatto che la psichiatria, anche all'interno delle classificazioni più recenti, di SMC in quinto ad esempio, continua comunque ad includere la transessualità all'interno delle disforie di genere. Cosa implica questa categorizzazione? Beh, risponde effettivamente al di là di criteri che potrebbero essere dettati dal predilizio, anche al fatto che la narrazione transgender effettivamente riguarda generalmente degli individui che devono affrontare un iter di transizione che è normato da dispositivi giuridici e medici. La transizione male to female, ad esempio female to male, sono delle operazioni che sono rigidamente regolamentate da apparati simbolici che ne sanciscono delle azioni tanto sul piano giuridico, cambio di stato civile ad esempio, quanto sul piano medico perché ovviamente intervengono delle operazioni chirurgiche che consentiranno di effettuare questo passaggio. Se andiamo alla slide successiva, notiamo invece appunto una cosa diversa se parliamo in senso più ampio di identità non binarie. Quelle che classifichiamo come identità non binarie avete inserito due foto una di un personaggio molto famoso che è il chevalier de Choisy che appunto è quello che avremmo definito all'epoca un travestito della fine del Seicento e dei primi del Settecento nel Settecento ce n'è un altro che è l'altrettanto famoso cavaliere d'Eon ma ho anche inserito come esempio di persona non binaria ad esempio quest'uomo Mark Bryan ingegnere americano che attualmente vive in Germania sposato e padre di due o tre figli che vive la propria identità non binaria non come forma di disforia di genere nel senso che effettivamente ciò che viene investito all'interno di questa categorizzazione identitaria è la costruzione sociale del genere quindi le persone che si identificano come non binarie sono persone che non richiederanno nella maggior parte dei casi una transizione quindi un'operazione chirurgica che riconduca all'altro sesso ma che si imitano a costruire socialmente la propria immagine sociale con criteri che appartengono generalmente al sesso opposto possiamo andare alla slide successiva l'interessualità è invece una condizione diversa rispetto a quelle precedenti perché l'interessualità non può essere acquisita e dipende da fattori biologici di fatto l'interessualità è per alcuni la prova scientifica del fatto che i sessi non sono due nel senso che individui intersessuali presentano caratteri sessuali primari o secondari a volte entrambi che non sono definibili come esclusivamente maschili o femminili rappresentano una parte esigua della popolazione mondiale ma vedremo che all'interno di una logica queer l'interessualità ha una importanza certamente molto grande possiamo cambiare slide la sessualità corrisponde non ad una scelta di vita la sessualità su un piano identitario non è la scelta della castità o di una continenza sessuale la sessualità è una vera e propria identità che è caratterizzata dalla mancanza di interesse nei confronti di individui quale che sia il genere cui appartengono questo non vuol dire che l'individuo assessuale non provi desiderio sessuale o interesse per il sesso ma prescinderà dalla presenza dell'altro quale che sia il genere di appartenenza di quest'altro individuo all'interno della sessualità esiste anche un'altra categoria che è la cosiddetta demisessualità che ne costituisce in qualche modo una variante attenuata è demisessuale quell'individuo che per giungere a consumare un rapporto sessuale con un altro individuo dovrà accompagnare l'approccio fisico dalla costruzione di una relazione intima e sentimentale che sia profonda ed emotivamente coinvolgente gli individui demisessuali rifiutano ovviamente le esperienze di sesso occasionali come rifiutano una visione del sesso ma a prescindere da una questione ideologica ma proprio come assisa identitaria che faccia meno di un profondo legame possiamo passare avanti nell'ambito degli studi di genere un'altra classificazione importante che consente di apprezzare la sfera della diversità con cui il genere si manifesta è il cisgenderismo è un individuo cisgender un individuo in cui vi sia concordanza tra identità di genere e manifestazioni dello stesso individuo sul piano biologico personale e sociale per dire in parole più semplici si tratta di un individuo che sente di appartenere tanto nel sesso quanto nel genere quanto ancora nella rappresentazione sociale di sesso e genere alla categoria nella quale si identifica erroneamente tuttavia talvolta cisgender diventa sinonimo di eterosessuale il che è assolutamente sbagliato perché un individuo cisgender può perfettamente avere un orientamento che non è necessariamente eterosessuale e cisgender è quell'individuo che appunto si sente tra virgolette sessualmente e sul piano del genere della rappresentazione sociale maschio o femmina ma che potrà provare attrazione sessuale per delle femmine o per dei maschi indipendentemente diciamo dal fatto di essere cisgender possiamo andare avanti allora una volta definita questo questo insieme di nozioni che appunto ci portano ad utilizzare in maniera più propria o comunque articolata secondo un certo modello scientifico le categorie che definiscono il genere vediamo che cosa il queer può dare al pensiero di queste categorie anzitutto una definizione di base di queer queer è un termine che come fargot ha inizialmente una connotazione dispregiativa indica in modo insensolato le minoranze sessuali può applicarsi tanto a uomini quanto a donne ma a partire dagli anni 90 del 900 prima degli Stati Uniti e successivamente nel resto del mondo il termine queer assume una connotazione propriamente politica e bisogna interrogarsi su perché proprio il termine queer assume una connotazione politica indipendentemente dal fatto che alcune realtà politiche come ad esempio quella di queer nation si siano identificate in questo termine allora breve digressione sul piano etimologico l'inglese queer deriva dall'aggettivo germanico ver che vuol dire trasversale diagonale obliquo e adesso a sua volta una derivazione latina perlomeno secondo la vulgata etimologica più accettata deriverebbe da torqueo che appunto vuol dire io piego torco ma anche tormento queer conseguentemente proprio in quanto obliquo proprio in quanto trasversale si contrappone a straight straight nel linguaggio in inglese ma soprattutto prima negli Stati Uniti e poi in Inghilterra è sinonimo di eterosessuale quindi straight è ciò che letteralmente è dritto che è ortogonale quindi la rettitudine sessuale cioè il comportamento canonicamente e normativi effettivamente eterosessuale verrà definito straight mentre tutto ciò che è incidente rispetto all'ortogonalità dello straight è per l'appunto queer possiamo andare avanti allora se queer si contrappone a straight vuol dire che queer e lgbt sono sinonimi bene la risposta è no effettivamente il pensiero queer si differenzia dal pensiero lgbt mainstream nel senso che il pensiero il pensiero lgbt in particolare a partire dagli anni novanta del secolo scorso è venuto via via assumendo una connotazione tale per la quale si richiede una normalizzazione della condizione gay e lesbo in particolare ovviamente anche bisessuale e transessuale ma in misura minore cosa vuol dire che a partire dagli anni novanta ma ci sono delle attestazioni che addirittura risalgono ad alcune realtà politico sociali quelle che erano definite dei club in particolare già dagli anni 20-30 del novecento che propongono un'idea dell'individuo gay o lesbo possibilmente bianco benestante normodotato cisgender e caratterizzato da espressioni fisiche sufficientemente virili o sufficientemente femminili sostanzialmente si tratta di una rappresentazione dell'omosessualità resa commestibile resa anche digeribile da una morale borghese tanto che ovviamente alcune frange del movimento LGBT si oppongono a una visione di questo tipo che ovviamente satura e sotto alcuni aspetti soffoca la carica avversiva del movimento non entro all'interno di questioni che potrebbero essere troppo tecniche ma mi limito a dire che certamente un'accettazione di un'identità LGBT che prescinda da tutti quei caratteri che potrebbero essere fastidiosi per la morale borghese chiaramente non può consentire una perequazione di genere chiaramente siamo certamente fuori da qualsiasi forma di bilancio di genere se vogliamo il genere così come noi possiamo raffigurarcelo è chiaro che la nozione di genere non può essere frutto di una negoziazione ma può essere frutto soltanto di una accettazione piena della diversità possiamo andare avanti il queer quindi in un senso più lato quello che mi piace appunto definire queer in estensione riguarderà un ecosistema complesso di individui marginali o marginalizzati perdenti spostati che chiedono tuttavia di essere considerati veri esistenti e reali di fatto il queer può oggi identificarsi come tutto ciò che non è pienamente assimilabile come tutto ciò che non è pienamente comprensibile che esce di fatto fuori da una performance di genere il genere è sostanzialmente lo vedremo sia pure in maniera cursoria con alcuni dei teorici del queer che magari poi presenterò brevemente tutto ciò che riguarda la performance di genere quindi ciò che mettiamo in scena letteralmente performe appunto come dire rappresentare anche a livello teatrale esce fuori dai canoni queer quindi il queer in fondo tende a smontare la performance di genere quale che essa sia possiamo andare avanti allora andiamo al tema che diciamo vi propongo adesso brevemente di affrontare relativamente alla letteratura fino ad ora e comunque per l'altra parte degli studi letterari prodotti la letteratura quella che si chiama letteratura queer funziona come un termine ombrello che rappresenta tutti i modelli e tutte le identità sessuali fuori dei canoni eteronormativi io propongo invece una quadripartizione di questa letteratura che tenti perlomeno ecco non dico che diciamo si tratti di una formulazione definitiva ma un tentativo di ripartire quella che appunto viene in maniera omnicomprensiva definita come letteratura queer sotto quattro grandi categorie la prima è quella che appunto avete sotto gli occhi e che definisco letteratura dell'omoerotismo dell'omosessualità e dell'omoestetismo la seconda è quella della letteratura del personaggio omosessuale poi la letteratura LGBT ed infine la letteratura queer propriamente detta mi piace far notare che di fatto questa quadripartizione insiste esclusivamente su aspetti contenutistici delle opere letterarie che adesso vedrò di presentarvi per fare alcune esemplificazioni e che quindi prescinde dalla ricezione sostanzialmente potrei avere delle opere che non presentano tematiche queer o LGBT ma che ma che siano invece recepite dal pubblico come queer o LGBT giusto per per intenderci alcuni personaggi ad esempio della musica pop non so pensate a Madonna o Lady Gaga o Loretta Goji hanno assunto un carattere iconico rispetto alla comunità LGBT senza che necessariamente queste figure pop mettano in campo necessariamente dei concetti relativi ad un sentire queer allora da questo punto di vista in termini letterari vuol dire invece escludere una prospettiva che è quella della scuola di costanza cioè l'estetica della ricezione che si basa piuttosto sul modo in cui l'opera viene recepita dal truitore piuttosto che dai contenuti che la stessa opera dovrebbe presentare allora possiamo andare avanti tenterò di accelerare un po' visto l'orario all'interno del primo raggruppamento la letteratura dell'omerotismo dell'omosessualità e dell'omestetismo raggruppa per me tutto ciò che è LGBTQIA ante litteram cioè la scrittura di opere in cui questi temi omerotismo omosessualità e omoestetismo prescindono da una definizione identitaria del personaggio o dell'io lirico quindi non c'è alcuna forma di rivendicazione di una identità omosessuale omosessuale opere di questo genere vanno dall'antichità sumerica in questo modo terzo secolo a.C. fino a fine ottocento senza che questa cronologizzazione ovviamente vada inteso in senso assoluto nel senso che chiaramente possono esserci opere che vanno anche oltre la fine dell'ottocento ma che hanno ancora una sensibilità di natura omoerotica omosessuale omoestetica rientrano all'interno di questo gruppo di autori letterati molto diversi tra loro dall'estensore dell'epopea di Gilgamesh a Safo Platone Teogni De Nacreonte Meleagro gli autori dell'antologia palatina e su su per i secoli Villon Shakespeare Verlaine Balzac e così via vediamo qualche esempio possiamo andare avanti con la slide l'epopea di Gilgamesh terzo millennio avanti Cristo narra l'amore tra Gilgamesh e Enkidu che nasce da uno scontro fisico tra i due quindi tema tipicamente omoerotico dallo scontro si evince una sostanziale parità tra i guerrieri quindi quale valore guerriero e recita testualmente il testo Gilgamesh quindi lo abbraccia e lo ama come una moglie i due sono resi forti dal loro legame tanto da sfidare gli dèi e alla fine Enkidu muore e c'è una parte molto famosa dell'epopea di Gilgamesh che è il pianto di Gilgamesh su Enkidu nel quale appunto il testo dice letteralmente è l'uomo che amo Enkidu il mio amato è diventato come d'argilla e chiaramente qui si intrecciano altri temi sulla morte sulla finitudine della vita eccetera eccetera ma il fulcro è dato dall'amore per Enkidu Quanto a Saffo che tutti ovviamente conoscete ovviamente va intesa così come Platone all'interno del valore paidetico che l'omosessualità ha nella Grecia antica Saffo era rettrice sacerdotessa e maestra del Tiaso di Lesbo che era consacrato al culto di Afrodite quello che avete sotto gli occhi e che magari insomma leggerete dopo è questo componimento la cosa più bella in cui appunto c'è il canto della poetessa per una delle sue alunne salto la lettura perché altrimenti col tempo non ce la facciamo ovviamente il tema è affrontato anche in Platone in particolare nel simposio e nel Fedro ma appunto lasciamo da parte i dettagli arrivando all'epoca del rinascimento francese grossomodo François Billion un'opera che affronta su un registro più volgare il tema dell'omerotismo quindi con la ballata in gergo omosessuale le ballate in gergo omosessuale possiamo andare avanti e via via risalendo per i secoli ho voluto soffermarmi su due casi che mi sembravano di maggior interesse per il fatto di essere piuttosto curiosi cioè Auguste Dupin il personaggio il noto personaggio di Edgar Allan Poe ma anche nella slide successiva Sherlock Holmes di Arthur Conan Doyle entrambi i detective che appunto sono delle creature in realtà che si situano nella seconda metà dell'Ottocento quindi in piena epoca vittoriana sono entrambi caratterizzati dal fatto di essere degli esteti sono degli esteti sono misogini sono degli scapoli impenitenti e in grossa sintesi racchiudono tutti gli stereotipi di età vittoriana che di fatto definiscono eufemizzandola l'identità omosessuale anche se si tratta di un'omosessualità ante interim ma diciamo all'interno di un comportamento omosessuale così come lo definiremmo noi andiamo avanti la seconda categoria che propongo e questo mi consente di precisare cosa intendo rispetto ad un personaggio omosessuale è quella che ho definito la letteratura del personaggio omosessuale il personaggio omosessuale non è un'espressione mia è un'espressione che desumo da Michel Foucault il quale tanto nella storia della folia quanto nella storia della sessualità in particolare nella volontà di sapere parla della creazione del personaggio omosessuale personaggio omosessuale che nasce per Foucault comincia diciamo ad emergere verso il XVII secolo ma che si concretizza in particolare a partire dal 1790 quando durante la rivoluzione francese assistiamo alla costituzione del tribunale della famiglia il quale ha un effetto dirompente sui costumi sessuali dell'epoca e anticipa l'Ottocento nelle forme di intolleranza che saranno poi portate alla massima espressione della morale vittoriana il tribunale della famiglia di fatto confisca l'etica sessuale all'interno della moralità familiare cioè non può esistere sessualità fuori della morale familiare questa seconda tappa del pensiero fucoltiano precede la terza tappa che è quella dell'omosessualità in quanto categoria psicologica psichiatrica e medica quindi a partire dal 1870 con il famoso articolo di Westphal sulle sensazioni sessuali contrarie e successivamente con Ulrichs oppure Hirschfeld e altri medici che dalla fine dell'ottocento grossomodo agli anni trenta del novecento istituiranno sul piano della sessuologia la figura e l'identità dell'omosessuale che bene e come forse alcuni di voi sanno l'inventore della parola omosessuale possiamo andare avanti alla definizione della letteratura del personaggio omosessuale contribuiscono anche due fatti storici di grande importanza che sono il processo Oscar Wilde due processi Oscar Wilde del 1895 ma anche che penso tutti voi conosciate ma anche lo scandalo Ollenburg lo scandalo del principe von Ollenburg si situa nell'ambito del secondo Reich quando appunto von Ollenburg viene diciamo sorpreso in atteggiamenti poco equivocabili con un comandante d'artiglieria tutto questo crea uno scandalo attorno ad un circolo di amici dei quali faceva parte ovviamente lo stesso Ollenburg del Kaiser Guglielmo II e lo scandalo Ollenburg sarà peraltro una delle ragioni che in fondo indeboliranno il secondo Reich e porteranno diciamo la Costituzione della Repubblica di Weimar fino appunto poi al cancellato di Hitler e a tutto quello che sappiamo la medicalizzazione dell'omosessualità da un lato e questi due grandi processi dall'altro contribuiscono alla creazione del personaggio dell'omosessuale cioè una letteratura in cui l'omosessuale diventa un vero e proprio personaggio allora vado velocissimamente perché vedo che il tempo si accorcia moltissimo sia pure in forme ancora estetizzanti e grecizzanti la morte a Venezia di Thomas Mann con Von Aschenbach potrebbe offrire in fondo una prima pallida illustrazione di questo tipo possiamo andare avanti decisamente più caratterizzato è invece il romanzo Maurice di Edgar Morgan Foster in cui appunto la storia d'amore si situa nell'ambito della morale vittoriana André Gide con Corridon trattato che riprende ovviamente le bucoiche di Virgilio ricordate probabilmente tutti i famosi versi virgiliani Marcel Proust avevo accostato un'immagine che non avrò tempo di commentare ma insomma il famoso barone di Chalus e le pratiche sadomasochistiche che il narratore spia da una stanza di un albergo che poi non è un albergo ma è un bordello e la finissima lettura che Mario Lavaggetto recentemente deceduto ha offerto di questa scena Jean Genet avevo c'era anche qui un filmato ma insomma per un'altra volta Jean Genet e Pasolini mettono slide successiva creano una figura di omosessuale più caratterizzata da un punto di vista sociale diciamo tanto in Genet quanto in Pasolini che scrivono in anni non troppo distanti uno dall'altro l'omosessuale riceve una caratterizzazione omosessuale come personaggio riceve una caratterizzazione sociale che si lega soprattutto già a forme di marginalità sociale quindi le volgate oppure i personaggi patibolari i carcerati di Genet che richiamano peraltro anche delle nicchie o dei camei narrativi come ad esempio nell'isola di Arturo di Elsa Morante la relazione del padre di Arturo con il giovane carcerato possiamo andare avanti stessa cosa potremmo dire per Marguerite Chiossonara probabilmente alcuni di voi conoscono le memorie di Adriano dove sempre attraverso questa volta una trasfigurazione storica Adriano assume in realtà una connotazione di personaggio omosessuale benché storicamente diciamo le cose non non collimino perché il tipo di sensibilità che Marguerite Chiossonara fa esprimere al suo personaggio è di fatto una sensibilità che vede nell'amato in Antino qualcosa di più del semplice rapporto tra Erastes e Romanos della tradizione classica possiamo andare avanti passiamo alla terza categoria che è quella della letteratura LGBT che si differenzia appunto dalla letteratura queer la letteratura LGBT è una letteratura che nasce propriamente a partire dagli anni 90 e che tende a presentare dei modelli di homonormatività e di transnormatività queste narrazioni si caratterizzano per essere fortemente incentrate attorno all'espressione di drammi borghesi di episodi di coming out di bromance adolescenziali omogenitorialità omofobia romanzo storico o di formazione e riscrittura degli anni 80 e 90 una vera e propria ossessione direi della letteratura LGBT veloce carrellata su alcuni autori che hanno contribuito a mettere in piedi questa categoria letteraria James Baldwin con la stanza di Giovanni romanzo che ha avuto un valore politico oltre che letterario perché ha aiutato a ripensare la condizione gay possiamo andare avanti a ripensare De Ghibert tradotto in italiano inaugura il cosiddetto romanzo dell'AIDS lo stesso Ghibert che era molto amico di Foucault anche io anche io morto di HLV ha scritto un'opera che ha creato tutto un genere letterario che è stato poi ripreso in scritture moderne come questa di Tristan Garcia pure tradotta in italiano la parte migliore degli uomini o ancora andando avanti dal recente Febbre di Jonathan Bazzi finalista al premio strega che racconta la storia della malattia come romanzo di formazione ho scelto come esempio un giovane americano di Edmund White che appunto tratta della costruzione diciamo dell'identità gay nell'America degli anni 50 ma in realtà con una sensibilità che è post Stonewall cioè post i moti i moti che hanno portato all'affermazione dell'identità LGBT negli Stati Uniti nella famosa episodio del 27 giugno del 69 stessa cosa potremmo dire ancora sul coming out per David Leavitt la lingua perduta delle gru siamo andati o ancora Walter City tra gli scrittori italiani che probabilmente hanno meglio contribuito a scavare all'interno della personalità dell'omosessuale come personaggio mentre il tema della omogenitorialità è affrontato con grande delicatezza da Melania Mazzucco ad esempio in questo 6 come 6 del 2013 infine per quello che concerne omofobia e bullismo omofobico il caso Edible Girl tradotto in italiano romanzo del 2014 in cui si narra anche questo potrebbe essere considerato come una sorta di dunks roman di romanzo di formazione che porta appunto alla creazione di un'identità omosessuale a partire da un contesto da un contesto di periferia nel quale il giovane Edi è bullizzato per la sua diversità possiamo andare avanti stessa cosa per Simon vs The Homo Sapiens Agenda del 2015 ma vado avanti e ancora per un altro romanzo di Edmund White il nostro caro ragazzo 2016 Un'altra enclave narrativa che tenta di normalizzare la storia delle persecuzioni omosessuali è data dal romanzo dell'Omocausto che diciamo si avvale di materiali storici per ricostruire qualcosa che non è mai esistito e cioè la memoria della deportazione degli omosessuali è una narrazione che in fondo cerca di colmare un vuoto su una costruzione identitaria che la storia ha reso impossibile possiamo andare avanti arriviamo alla quarta e ultima delle categorie che ho considerato la letteratura queer l'immagine che vedete di un intellettuale italiano milanese che era molto noto negli anni 70 ma che oggi viene ripreso per il suo valore per il carattere anticipatorio di alcune sue intuizioni cioè Mario Mieli Mario Mieli personaggio di spicco del fronte di rivoluzione omosessuale come in altre nazioni Guillaume Can Game ad esempio in Francia o i ragazzi di Queer Nation la teoria queer come anticipavo è contraria a qualsiasi forma di omonormativismo o di transnormativismo tra i teorici principali vi rimando certamente ad autori come Teresa De Lauretis Judith Butler Paul Trefiado e diversi altri un'attenzione che bisogna portare alla letteratura queer è relativa alla caratteristica di essere una letteratura che mette in scena delle pratiche sessuali marginali o marginalizzate allora se vediamo appunto qualche caso la slide mi ha preceduto quella di quella di William Burroughs ad esempio ragazzi selvaggi è una sorta di distopia gay in un ambiente in una in una apocalittica fina del ventesimo secolo il test del del settant'uno in cui omosessualità droga e violenza estrema si intrecciano in una rappresentazione fuori da qualsiasi possibilità di normalizzazione possiamo andare avanti Pier Vittorio Tondelli è un altro esempio italiano che può certamente essere classificato nell'ambito della letteratura queer e non certamente nell'ambito della letteratura gay lo stesso Tondelli rifiutava esplicitamente l'etichetta di autore gay ma le sue storie contribuiscono invece come in altri libertini a costituire un'identità queer l'esempio di guillaume d'ustan è un esempio di scrittore certamente fuori da qualsiasi regola favorevole a bear baking cioè rapporti sessuali non protetti nel periodo in cui impazzava l'epidemia di HIV anche egli è morto di AIDS Marco Vidal è invece interessante per l'esposizione dell'unica pratica che completa la storia della sessualità di Michel Foucault o la psicopatologia sexualis di Kraft Ebing e cioè mette in evidenza la pratica del fist fucking vi rimando diciamo ad ulteriori approfondimenti ma il fist certamente rientra così come le pratiche di bondage dominazione o sadomaso all'interno di un immaginario che è certamente queer e certamente non LGBT possiamo andare avanti infine Sarah Kane per il teatro autrice di genio prematuramente scomparsa che ha portato all'estremo direi la rappresentazione della queerness il suo Blasted dannati messo in scena nel 95 è stato il più grande scandalo delle scene londinesi del ventesimo secolo si assiste in scena a stupri cannibalismo e brutalità di vario tipo così come in Crave l'ultima sua opera i personaggi succhiano gli occhi uno dell'altro e cuociono alla griglia i loro genitali si tratta ovviamente di immagini estremamente forti che vanno prese come chiaramente come allegorie di una decostruzione del genere che non può e probabilmente non deve per stirare sufficientemente le nostre coscienze abituate alla diversità prescindere dai canoni etero normativi mi spiace come dire per il fatto di essere stato sopraffiato spero di avere suscitato alcune curiosità ringrazio per l'attenzione tutte e tutti ringrazio anche velocissimamente Alessandro Di Liberto mio studente che ha lavorato con me aiutandomi tecnicamente alla realizzazione delle slide grazie Alessandro ringraziamo anche di nuovo per l'ennesima volta Carmelo Belfiore che questa volta anche mi piace per gli inconvenienti tecnici ho imparato tante cose e quindi poi in privato ne parliamo ora purtroppo davvero il tempo è tiranno e c'è l'altra altra relazione grazie Alessandro grazie a voi arrivederci ciao grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi